Ciao a tutti da Diego di Tecnophone.it quest'oggi riprendiamo il glorioso Samsung Galaxy S2 perché voglio mostrarvi tutte le novità che sono state introdotte con l'aggiornamento ad Android 4.1.2 quindi Android Jelly Bean perché questo smartphone nonostante i suoi oramai 20 mesi di anzianità ha ricevuto da poco questo aggiornamento importante questo aggiornamento porta tantissime novità porta una nuova interfaccia o meglio una rivigitazione dell'interfaccia che era presente nella versione diciamo Android Ice Cream Sandwich è la solita versione che troviamo sui top di gamma del 2012 come ad esempio il Galaxy S3 e il Galaxy Note 2 in questo video cercherò di mostrarvi tutte le novità che sono state introdotte appunto con questo aggiornamento iniziamo con la schermata di sblocco come vedete qua in basso abbiamo tre iconcine che servono per lanciare le applicazioni in modo rapido ad esempio se noi prendiamo la fotocamera e facciamo uno swipe in alto verrà lanciata l'applicazione fotocamera chiaramente questo funziona anche con le altre tre icone per fare poi lo sblocco per sbloccare poi il display basterà semplicemente fare uno swipe su qualsiasi parte del display andiamo a vedere ora la barra delle notifiche la barra delle notifiche è stata anche questa aggiornata abbiamo una nuova barra che scorrevole dove possiamo scegliere di abilitare e disabilitare diverse opzioni la cosa molto comoda è che se noi teniamo premuto qualsiasi diciamo bottone che abbiamo qua possiamo entrare poi nel menu diciamo diretto ad esempio wifi ci aprirà il menu del wifi questa è una funzione davvero molto comoda abbiamo poi la barra per la luminosità del display con la spunta di automatico e poi qua in basso verranno visualizzate le notifiche che con l'aggiornamento di Jelly Bean ma questa è una funzione diciamo del sistema operativo sono espandibile adesso non ne ho da farvi vedere purtroppo vediamo adesso l'interfaccia l'interfaccia come ho detto è sempre la solita TouchWiz però è stata diciamo ridisegnata con una nuova versione che è chiamata diciamo ispirata dalla natura le funzioni principali le troviamo nel menu dove abbiamo applicazioni e widget anche nei widget possiamo fare uno pinch per visualizzare un'anteprima di tutti i widget la stessa cosa anche nelle applicazioni abbiamo finalmente la possibilità di scegliere il tipo di vista ovvero griglia personalizzabile e griglia alfabetica che è una cosa davvero molto comoda premendo il tasto opzioni poi possiamo anche scegliere di disinstallare ma questo comunque era già anche presente nella versione precedente abbiamo il collegamento diretto a Play Store e via così per inserire i widget possiamo tenere premuto il tasto e scegliere applicazioni widget in questo caso andremo non viene più la barrettina qua in basso con tutti i widget da scegliere ma li andremo a scegliere direttamente nella pagina che comunque vi ho fatto vedere prima per inserire poi un widget chiaramente basterà tenere premuto e scegliere la posizione anche in questo caso vedete è molto intelligente perché lui sposterà da solo le icone quindi non avremo più problemi di spazio oppure altro rimettiamo la nostra barrettina di Google adesso vi faccio vedere la galleria anche la galleria ha ricevuto un restyling in questo caso è stata portata più o meno alla pari del Galaxy S3 abbiamo la possibilità di scegliere la visualizzazione di album posizioni, ora, persona e gruppo è stato introdotto il tag ai volti diciamo c'è un sistema che riconoscerà se in una foto abbiamo un volto e poi potremo associarlo ad un contatto andiamo a vedere anche il lettore video anche nel lettore video abbiamo delle novità questo è un video in full HD come vedete nessun problema di riproduzione possiamo però fare lo zoom cosa che ad esempio non è possibile su Galaxy S3 o Note 2 questa quindi è una funzione che è disponibile soltanto per il Galaxy S2 al momento sempre poi nei video possiamo scattare delle istantanee vedete acquisire delle immagini e possiamo anche ridimensionarlo in modo poi da averlo nella nostra home lo possiamo poi ingrandire, ridurre per eliminarlo basterà premere la X quindi davvero una funzione nuova e molto interessante che sicuramente farà felici molti di voi ritorniamo nelle applicazioni abbiamo anche l'archivio nuovo dove abbiamo la possibilità di visualizzare tutti i file oppure scegliere cosa vogliamo visualizzare e abbiamo anche una gestione diciamo più rapida perché possiamo selezionare direttamente le cartelle e poi scegliere se spostarle, copiarle oppure cancellarle oppure condividere magari dei file come in questo caso abbiamo la condivisione del film Samsung ha integrato alcuni dei comandi vocali che comunque erano già presenti con la versione precedente della TouchWiz diciamo non abbiamo l'S Voice che è presente sul Galaxy S3 abbiamo anche Google Now il nuovo sistema di Google che purtroppo per il momento in Italia non è ancora attivo al 100% però comunque vedete abbiamo le nostre schede con il meteo e possiamo fare la ricerca direttamente nell'applicazione abbiamo anche le funzioni vocali vai su www.technophon.it come vedete riconosce veramente tutto in questo modo almeno vi faccio vedere anche il browser anche il browser è stato portato al livello diciamo del Galaxy S3 con la possibilità di navigare a schede abbiamo la possibilità di navigare anche in modalità anonima e nelle impostazioni possiamo aumentare o diminuire la luminosità del display questo per comunque garantire un risparmio di energia torniamo adesso nelle impostazioni vi faccio vedere alcune novità che sono state introdotte come ad esempio la modalità di blocco che è una funzione che ci permette di disattivare alcune chiamate disattivare le notifiche se ad esempio non vogliamo essere disturbati la cosa interessante è che possiamo scegliere un orario per questa modalità di blocco e anche consentire dei contatti quindi magari non lo so non vogliamo ricevere nessuna chiamata tranne un numero e questo diciamo numero sarà abilitato a chiamarvi abbiamo anche l'opzione di risparmio di energia dove possiamo limitare l'utilizzo della CPU il telefono chiaramente andrà più lento abbassare un livello di un livello energetico scusate abbassare il livello energetico del display abbassare anche il colore dello sfondo e disattivare il feedback tattile queste sono tutte funzioni che sono attivabili vedete dal menu che abbiamo in alto nelle scorciatoie nella barra delle notifiche andiamo nei sensori di movimento chiamata diretta visualizziamo magari un sms vogliamo chiamare il nostro contatto basterà fare il gesto di portarlo all'orecchio e lui effettuerà la chiamata abbiamo il doppio tocco qua in alto per salire da un elenco inclina per ingrandire serve per fare lo zoom con questo movimento che però vi sconsiglio di utilizzarlo scuoti per aggiornare serve magari per ricercare dei dispositivi bluetooth basterà scuotere il telefono e via così un'altra cosa molto utile la troviamo nel menu schermo è lo stand by intelligente ovvero lo smartphone rimane attivo se riconosce la presenza del viso quindi non dovremo più essere sempre a toccare il display per evitare che si spegne magari quando stiamo leggendo qualcosa che impiega più di 30 secondi diciamo di inattività è stata introdotta la possibilità di inserire la percentuale della batteria vedete qua in alto e la regolazione automatica dei toni dello schermo tutto questo serve per comunque risparmiare un pochino più di energia come vedete il menu va che è una scheggia anche il sistema operativo è davvero molto reattivo devo dire che Samsung ha fatto un ottimo lavoro in quanto lo smartphone al momento è attuale nel senso nonostante abbia più di 20 mesi di anzianità questo smartphone si difende benissimo dalla concorrenza anche perché comunque diciamo in vendita in questo periodo si riesce a trovare sulle 300-350 euro con garanzia Italia anche nella colorazione bianca ad esempio chiudiamo con la fotocamera perché anche l'applicazione fotocamera ha ricevuto alcuni alcuni dei restyling andiamo a vedere ad esempio abbiamo la possibilità di applicare degli effetti in tempo reale ad esempio mettiamo l'effetto seppia voilà abbiamo la possibilità di utilizzare il rilevamento dei volti possiamo utilizzare la modalità panorama queste chiaramente erano già presenti il modo sorriso e il modo fumetto nelle impostazioni poi possiamo scegliere di modificare i collegamenti ad esempio vogliamo mettere le scene qua facciamo il tasto back non me l'ha preso scusate voilà come vedete l'interfaccia è davvero molto intuitiva è molto piacevole anche da utilizzare in conclusione chiaramente se avete questo smartphone l'aggiornamento è obbligatorio dovete farlo perché vi ritroverete uno smartphone rinato con questo aggiornamento e niente che dire sono rimasto davvero molto colpito da Samsung per questa scelta perché come ho già detto prima e lo ribadisco nonostante i suoi comunque 20 mesi di anzianità questo smartphone risulta sempre molto attuale un saluto da Diego di Tecnofon ciao ciao